Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 10.30 a Clusone. Un'autovettura Opel, per cause ancora da chiarire, è finita fuoristrada in prossimità dell'intersezione tra l'ex provinciale che porta a Rovetta e via del volontariato, nella parte alta della cittadina. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, diretta verso Rovetta, ha sbandato verso sinistra, urtando il muro sul lato opposto e rimbalzando poi dall'altra parte, finendo fuoristrada contro un cartello con indicazioni stradali. Sul posto sono intervenute l'auto con il medico a bordo e un'ambulanza della Croce Rossa di Candino, oltre all'elicottero decollato da Bergamo, atterrato in un prato vicino. La donna che era al volante dell'auto, una 41enne, è stata trasportata in volo in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Clusone e i vigili del fuoco di Gazzaniga e Clusone.